Buongiorno e ben trovati dalla redazione del Tg della mobilità. Questa mattina dalle 10 evento nell'area di San Pietro all'auditorium della conciliazione. Di vieti di sosta sono già in vigore in via della conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant'Angelo e Piazza Pia. Dalle 8 saranno deviate le linee 23, 40, 62, 280 e 982. Le linee 40 e 62 faranno capolinea sul lungo Tevere in Sassia. Inoltre saranno disattivate le fermate bus su via della Traspontina e Piazza Pia. Intanto proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei binari tramviari su via Induno e via di Porta Portese. Anche questa mattina per la chiusura delle due strade tra Viale Trastevere e Piazza di Porta Portese sono deviate le linee 3, 8, 44 e 75. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della mobilità.